Quella mattina mi svegliò un rumore, saltai giù dal letto in pigiama, mi avvicinai alla finestra, quella sul coltile e vidi papà, stavo mettendo qualcosa nel bagagliaio e pensai, l'attrezzatura da pesca, mi aveva detto che quando uscivo dall'ospedale mi avrebbe portato a pesca, Così mi vesti in fretta e gli andai dietro, chiesi le scale correndo, lo mancai per tre secondi, per tre secondi, così presi la tua bicicletta e iniziai a pedalare più forte che potevo, All'improvviso non vidi lontananza, mi avvicinai pedalando, arrivava un semaforo e quando stavo per raggiungerlo diventava verde e mi scappavo di nuovo, Poi lo vidi da lontano cambiare macchina, E nel giro di 5-6 minuti vidi l'auto lì parcheggiata e... E di due spari... Ero morto di paura... E poi vidi mio papà uscire dalla banca... E lui vide me... E poi... Hanno cominciato a gridargli... In ginocchio... In ginocchio... E lui ne lo fece... Perché mi stava guardando... Perché mi stava guardando... E così... E tu nei... E veni via... E veni via... E voi Roberta... Eci quindi... E voi婆... Ce?